Mi avete fatto un favore, un piacere enorme a vedervi tutti qua. Io gli dissi, ma la ringrazio della stima, ma il sorriso non basta, bisogna impegnarsi. E lui mi disse che con l'ottimismo ce la potevamo fare e l'ottimismo e il sorriso cerco di mantenerli il più possibile perché questo lavoro per la nostra città è sempre difficile e bisogna prendere esempio da lui. Fratelli e sorelle, prima di avviarci alla Chiesa per la celebrazione esequiale nella quale affideremo al Signore Nino, procediamo qui in questo luogo dove ha messo il suo ingegno, le sue energie, la sua intelligenza, dando lavoro e benessere a tante famiglie e al nostro territorio. Grazie.